In questo numero del Tg Ambiente, dall'Europa 175 milioni per ridurre le emissioni di metano, microplastiche nell'acqua in bottiglia, trasporto marittimo, il biofuel soluzione per un futuro più green. Arriva un nuovo software per calcolare le emissioni evitate di CO2. I cosiddetti superinquinanti climatici, tra cui metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi e ozono troposferico, sono responsabili di oltre la metà del riscaldamento globale attuale. Oltre 150 paesi perseguono l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di metano legate all'attività umana di almeno il 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. L'Unione Europea e gli Stati membri hanno annunciato 175 milioni di euro a sostegno di questo programma mondiale per promuovere la riduzione del metano. Questi fondi accelerano l'azione dei governi, del settore e della società civile per frenare le emissioni di questo gas in tutto il comparto energetico, anche attraverso la rilevazione dei dati sul metano con l'uso di nuovi satelliti. Questa iniziativa mondiale contribuirà a mantenere raggiungibile l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. Un litro di acqua in bottiglia può contenere una media di 240 mila minuscoli frammenti di plastica, una quantità da 10 a 100 volte più grande delle stime fatte finora. Il dato emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. La ricerca, guidata dalla Columbia University, è stata condotta con una nuova tecnica in grado di individuare anche le particelle più piccole finora sfuggite alle osservazioni. In questi ultimi anni, spiegano gli esperti, la preoccupazione sull'impatto delle cosiddette microplastiche è cresciuta perché la loro presenza è stata rilevata ovunque sulla terra, dal ghiaccio polare al suolo, all'acqua potabile e al cibo, e i cui effetti sulla salute sull'ecosistema sono ancora in buona parte sconosciuti. I ricercatori hanno testato tre famose marche di acqua in bottiglia vendute negli Stati Uniti analizzando le particelle di plastica fino a soli 100 nanometri di dimensione. Nel dettaglio hanno individuato da 110 mila a 370 mila particelle in ogni litro. Il 10% erano microplastiche, il 90% nanoplastiche, frammenti piccolissimi, in grado di attraversare i tessuti dell'intestino e finire direttamente nel flusso sanguigno viaggiando fino agli organi, compresa la placenta. Il settore del trasporto marittimo necessita di soluzioni di breve, medio e lungo termine compatibili con le dinamiche economiche per contenere o azzerare le emissioni di anidride carbonica. Il biofuel potrebbe essere una di queste, come spiega intervistato dall'Ital Press Cesare D'Amico, amministratore delegato di D'Amico Società di Navigazione. Sicuramente noi vediamo con grande favore quella del biofuel perché sostanzialmente è una soluzione drop-in, cioè praticamente non ci sono aggiunte, cioè non ci sono modifiche ma dovranno prendere il costo e la disponibilità del fuel bio che oggi con un 30% di biologico già va a essere meglio del gas. Quindi questa potrebbe essere una prima soluzione. Fra l'altro avrebbe una soluzione anche di carattere fossile meno impattante. Stiamo assistendo anche a un aumento considerevole dei prezzi, ovviamente, delle nostre commodities. Quindi questo impatto che sta avendo proprio sul settore? Che cosa possiamo dire? Sicuramente abbiamo visto nel tempo che alcune direttive di traffico sono mutate, viaggi anche dovuti a motivi geopolitici. Non dobbiamo dimenticare che la guerra fra Ucraina e Russia prima di tutto ha avuto una grossa influenza perché l'Ucraina era un grandissimo esportatore di grano che a un certo punto è venuto a mancare totalmente. L'Africa immagino, no? L'Africa ma anche, diciamo, andava anche moltissimo sulla parte del sud-est asiatico in Cina. Arriva un nuovo software per calcolare le emissioni evitate di CO2 equivalenti dai programmi europei. Il programma è stato realizzato da Enea per supportare le attività dei vari progetti per la sostenibilità, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il nuovo modello di calcolo ha stimato un risparmio cumulativo di oltre 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti per i progetti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Just Transition Fund previsti dal documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi europei. L'applicazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha consentito di stimare una riduzione di circa 560 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti nell'arco totale di vita degli interventi, dall'avvio alla loro conclusione. Il modello, infatti, consente di stimare in anticipo gli effetti di scenari alternativi legati alla programmazione degli interventi previsti per poi verificare l'allineamento delle attività con gli obiettivi iniziali e infine analizzare i risultati raggiunti.